ben trovati a tutti voi a una nuova puntata di parola al direttore naturalmente sempre dalla redazione di libero e naturalmente sempre con vittorio feltri vittorio un piacere buongiorno a tutti voi ben trovato cominciamo con questo teatrino della politica così come lo definite voi peraltro sul quotidiano libero e mi riferisco alla diatriba barra tensione tra beppe grillo e giuseppe conte ma io più che teatrino della politica lo chiamerei il cimitero della politica perché qui non siamo di fronte a questioni strettamente politiche ma personali giustamente grillo che ha fondato il movimento non vuole perderlo d'altra parte conte che si è sentito un padre eterno dopo due anni otto mesi a palazzo chigi pretende di andare all'incasso anche in termini di politica però mi sembra assolutamente regolare quello che sta succedendo perché se sicuramente i nostri ascoltatori ricorderanno il movimento fu fondato su una base ideologica piuttosto fragile era il famoso vaffa che è poi l'abbreviativo di vaffanculo perché questa è la verità ovvio che un movimento che nasce sul vaffanculo non può che andare affanculo ed è quello che sta succedendo adesso perché tra l'altro le schermaglie si sono estese anche diciamo ai deputati e ai senatori del 5 stelle quindi sarà molto difficile trovare un punto di mediazione che rimetta le cose a posto poi quando succedono queste burrasche purtroppo il mare rimane accitato quindi quando anche se dovesse trovare un compromesso non sarebbe duraturo ecco infatti e quindi grillo secondo te in questa fase potrebbe prendersene tanti di vaffa perché qualcuno se lo sta già prendendo credo all'interno del movimento 5 stelle infatti quando quando due litigano non è che le prendono soltanto ma le danno anche però alla fine del match qualche rivido ti rimane e credo che per per grillo non sia un momento felice ma non è non è trionfale neanche per per conto e che dimostra in certi momenti non solo anche una fragilità nervosa ma anche un un ansia di potere che francamente non è giustificata infatti ti stavo chiedendo se c'è un po una sorta di onnipotenza da parte di di conte che però sta dicendo la sua e che dice o va bene così sennò io banalmente mi farò il mio partito sì come se fosse facile fare un partito intanto bisogna avere molti soldi io gli auguro di averli può anche fare un altro partito ma il panorama italiano un altro partito del 2 per cento o anche del 6 per cento non credo che possa mutare il quadro politico generale guarda per onestà però ne avevamo parlato anche io te ma parlo per me naturalmente quando conte insomma stava finendo l'esperienza di conte a palazzo chigi io avrei scommesso che non avremmo sentito più tanto parlare di giuseppe conte complice anche il fatto che fosse legato al periodo della pandemia non è che quindi gli italiani potessero vederlo anche solo legato a questa emergenza in realtà non è andata così perché intanto ne stiamo parlando ancora ma soprattutto a livello di consenso quindi con i sondaggi conte pare godere ancora di se lui personalmente positività da parte degli italiani si si lui personalmente godeva anche di buona stampa abbastanza quindi però il discorso secondo me è un altro che quando un uomo assaggia il potere poi difficilmente vi rinuncia quantomeno tenta di riacchiapparne una una parte e quindi trovo del tutto normale il suo atteggiamento anche se forse sta sconfinando verso l'arroganza ok gioca tennis nel frattempo si legge su su libero padrone di giocare a tennis ma se conte fondasse un suo partito indipendentemente che ce la faccia o meno supponiamo cosa succederebbe si aprirebbe uno scenario politico diverso cioè potrebbe avere davvero buon risultato ma io credo che un nuovo partito sarebbe ininfluente sul quadro generale ok non darebbe più non avrei complicherebbe ulteriormente la politica italiana che però attenzione che noi continuiamo a prendersela con noi stessi e facciamo anche bene in un certo senso però basta vedere cosa è successo in francia recentemente dove solamente il 35 per cento dei francesi è andato a votare quindi vuol dire che la stessa stanchezza la stessa nausea verso la politica ce l'hanno anche i francesi non soltanto noi diciamo che quando da quando le le ideologie sono sono morte si è incasinato tutto ma è un motivo semplice con tempo le ideologie avevano la stessa caratteristica delle religioni che promettono ma non danno mai niente di concreto anche le religioni sono così se tu poi quando mori ma in paradiso sai che mi frega a me quando muoio però insomma la gente si lascia suggestionale da queste cose anche perché ha bisogno di sperare in una vita migliore adesso che le ideologie sono morte è rimasto un vuoto un vuoto anche un disgusto una rabbia e non ce neanche in molta speranza di vedere cambiare le cose in senso positivo perché l'umanità fa schifo da sempre quindi continua a fare schifo anche oggi questo bisogna saperlo insomma bisogna rassegnarsi alla realtà e adattarsi alla realtà perché difficilmente la realtà si adatta diciamo che non abbiamo bisogno di queste tensioni politiche soprattutto di queste scaramucce poi vabbè l'ultima cosa sul movimento 5 stelle rischia però davvero di perdere pezzi totalmente insomma perché momento 5 stelle che è già con le ossa un po rotte peraltro si dovranno rivedere anche i numeri in parlamento se ci fosse la scissione insomma sì sì tutto quello che dici è giusto io però se devo dire la verità a me del movimento 5 stelle non frega niente ok lo sapevo me l'hai già detto in altre occasioni ma io volevo risentirlo detto si sa mai che abbia cambiato idea nel frattempo il direttore Feltri cambiamo argomento però restiamo sempre un po' anche su quello che si aspetta la gente in questo momento appunto non le liti politiche ma delle riforme degli aiuti concreti da parte del governo così ci buttiamo anche su quello che sta facendo il governo Draghi parliamo di un qualcosa che ha che fare direttamente con l'economia e che riguarda tutti noi perché lo abbiamo detto a nessuno interessano queste tensioni nella politica in questo momento ma siamo più concentrati a capire cosa sarà di noi nel futuro dato proprio di queste ultime ore quello sulla disoccupazione che è in doppia cifra siamo al 10,5 per cento certo a onor del vero è calato era il 10,7 però insomma è sempre abbastanza importante la tendenza di tutti è quella di essere dei catastrofisti io invece ritengo che le cose non vadano assolutamente male certo il terziario ha subito delle botte mostruose dalle quali non si è ancora ripreso perché hanno riaperto una settimana fa 10 giorni fa quindi non possono aver recuperato il tempo e i soldi perduti quello è normale e anche dal punto di vista dell'occupazione un terziario massacrato non può fare assunzioni brillanti quindi la ripresa sarà abbastanza lenta in questo settore mentre l'industria è aumentata molto quindi quando l'industria tira in ogni caso le cose si mettono si mettono bene il nostro pil è aumentato di poco naturalmente ma è aumentato che è un segnale segnale di ripresa per quanto riguarda l'attività industriale è superiore quella italiana a quella tedesca e siccome noi guardiamo i tedeschi come ha dei modelli da imitare insomma questa volta è la germania per la prima volta l'italia ha superato la germania e la francia mi ha detto niente tutti questi segnali se non teniamo conto non riusciamo a capire qual è la realtà questa è la verità io credo che anzi c'è un ansia adesso in molta gente di ripresa per cui si impegna molto di più di prima e poi parliamo sempre della disoccupazione ma disoccupazione è un fenomeno che cresce quando la gente non sa fare un mestiere insomma i nostri giovani ma non solo i giovani anche le persone di una certa età se non sanno fare un mestiere dimmi tu che lavoro possono trovare bisogna saper fare un mestiere ma il mestiere non è che lo impari dalla sera alla mattina per imparare un mestiere ci vuole impegno è come lo studio bisogna mettersi lì di buona volontà imparare quando hai imparato un mestiere tu il posto lo trovi se sai fare fare il faregnale nonostante sia un mestiere un po in declino ma tu domani mattina trovi un posto ma lo trovi con una buona retribuzione lo stesso vale per i saldatori saldatori sono scomparsi nessuno più sa fare il saldatore è chiaro che uno che non sa fare il saldatore non sa fare l'idraulico non sa fare niente non sa fare l'elettricista ma che posto vuoi che trovi poi oltretutto c'è la schifezza del del reddito di cittadinanza che consente un individuo un reddito minimo perché mi pare sino al 7 800 però vedi se io prendo 7 800 euro non so fare niente però qualche lavoretto in nero me lo posso trovare allora alle alle 8 c'è agli 800 euro di di reddito di cittadinanza aggiungo un 500 euro di lavoretti fatti di sfroso come si dice in lombardia ecco che io campo campo e risulto disoccupato è certo però insomma queste cose bisogna sapere altrimenti noi fotografiamo una realtà che non c'è reddito di cittadinanza che poi non è riuscito neanche insomma l'obiettivo era quello di ridurre la povertà poi è chiaro che è arrivato il comune poveri non li riduci mai perché i poveri ci sono sempre stati lo diceva anche gesù che ci sarebbero sempre stati i poveri sono anche aumentati adesso a dirle è vero per il tema comune io è più facile che un ricco diventi povero che un povero diventi rinnessi quello purtroppo sì a meno che non si vinca super enalotto insomma per tu giochi al super enalotto no io non gioco niente sono già occupato a lavorare mi manca anche di giocare infatti assolutamente no inutile senti tu sei preoccupato per la variante delta adesso si sta parlando assolutamente no perché è coperta dai vaccini ok quindi certo se non ci fosse più sereno però adesso non è che ci dobbiamo fasciare la testa prima di esserci alla rotta poi gli esperti che naturalmente gli esperti adesso sono anche loro soggetti a critiche perché vanno in televisione uno dice una cosa un'uno dice un'altra però alla fine è da questi dibattiti che nasce poi la soluzione ma se noi pensiamo che nel giro di meno di un anno è stato prodotto sono stati prodotti vari vaccini non possiamo che ringraziare la scienza altro che prenderla in giro si parla di un immunità di gregge verso settembre molti dicono attenzione per la variante delta in ottuno ma l'immunità di gregge la raggiungi dopo che hai fatto un certo numero di vaccini ma noi siamo ancora indietro perché non ci sono i vaccini e adesso il rischio è che queste in estate insomma nel periodo proprio estivo luglio agosto possano diminuire infatti alcuni governatori tra cui fontana esatto ha lanciato un po l'allarme perché ha detto attenzione se rischiamo di frenare bruscamente questa questa corsa no alla vaccinazione purtroppo è vero spero che noi siamo in grado di procurarci tra i vaccini basta pagare poi non riesco a capire perché si debbano fare gratis i vaccini e questo è una cosa che non digerisco perché basterebbe farli pagare 20 30 euro che non avremo più problemi e 20 30 euro porca miseria spendono 100 euro per vedere una partita di calcio e poi non hanno 20 euro per il per il vaccino queste cose mi disgustano no certo se questo deve causare poi un rallentamento una penalizzazione tutta la campagna e poi sempre a carico dello stato nello stato deve dare i bonus deve dare il debito di cittadinanza deve sostenere tizio la cassa integrazione e poi è chiaro che noi ci indebitiamo in modo forsennato abbiamo un debito pubblico mostruoso e poi festeggiamo gli aiuti diciamo così europei non sapendo che sono debiti io non ho mai visto nessuno festeggiare i debiti ecco arriveranno infatti i primi aiuti europei anche questo ti volevo chiedere però abbiamo visto ancora un europa no negli incontri che ci sono stati un po divisa su temi importanti non solo quelli economici ma anche che so io l'immigrazione no sembrava tutto rosa e fiori ma pare che non si raggiunga ancora l'accordo infatti poi in questo periodo estivo come sempre arrivano sbarchi e nessuno sa cosa deve fare l'europa questa europa no avevamo un po la speranza che dopo la l'emergenza covid potesse risorgere dalle sue stesse ceneri ma ma come la vedi risorgerà o saremo un po destinati sempre ad arrancare e agire giorno dopo giorno perché poi il problema è questo invece strutturalmente ci sarebbe bisogno di molto altro sì certo diciamo che la perfezione è lontana però io almeno seguo la politica l'economia da oltre una sessantina d'anni e ho sempre sentito gli stessi discorsi assolutamente sono d'accordissimo ogni anno la stessa cosa mi sono abituato dopo di che ognuno deve anche cercare di migliorare la propria condizione dandosi da fare se invece stai seduto sul divano col telecomando in mano non risolvi niente assolutamente sì e speriamo che poi è qui così almeno ci avviamo a conclusione però ti voglio chiedere ancora un paio di cose che con l'estate invece possa essere rilanciato il turismo no il fatto che si possa viaggiare quello che fa sì che anche le attività italiane possano rinvigorirsi un po come prevede come sarà quest'estate 2021 incrementare il turismo adesso perché noi dobbiamo puntare sugli stranieri se tu vai in vacanza a rimini si puoi dare una mano ma ma molto piccola quando invece c'era il flusso degli stranieri molto intenso c'erano ben altre altre fonti di guadagno questo è poco come è sicuro quindi quest'anno non vedo grandi miglioramenti sotto sotto questo profilo se l'anno 21 ci saranno più questioni di di virus è chiaro che riprenderemo perché quest'anno sono andati tutti in in grecia e anche in altri posti diciamo esotici e questo perché perché l'italia aveva chiuso poi c'era il coprifuoco non è che uno parte da che so io dall'austria poi viene qui per andare a letto alle 10 di sera e no no questo ci ha già ci ha frenato poi c'è anche tutta la vita notturna che comunque l'estate è importante in vacanza le discoteche pare non possano riaprire ancora il governo pensa d'aiuto io lo sai beh non sono una persona adatta per parlare di queste cose io non ho mai messo piede in una discoteca né non lo metterei neanche sotto la minaccia di un'arma da fuoco quindi non mi interessano queste cose però mi rendo conto almeno dando un'occhiata a quello che succede che i ragazzi giovani ma non solo i giovani amano stare in giro fare il casino di notte sono anche cose che non mi disgustano e poi sono attività e pare che il già il 30 per cento di attività appunto legate al mondo notturno abbiano chiuso in questo anno il problema che se non si potrà riaprire purtroppo temo che perderemo altri pezzi sempre sul turismo aveva fatto tanto discutere il green pass il pass vaccinale che adesso è attivo bisognerà utilizzarlo per viaggiare tu sei d'accordo su questo mezzo guarda siccome io non viaggio me ne infischio di questa cosa io non viaggio perché da qualche anno ho deciso di non uscire più dalla cerchia dei navigli che io sono in grado di annoiarmi anche a milano senza bisogno di andare in vacanza ok 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 però e siamo davvero in conclusione adesso mi hai ti stavo per fare una proposta che con questa affermazione mi viene un po massacrata no ma se è oscena io lo aggradisco oscena non lo so lo diranno i nostri telespettatori però insomma volevo visto che adesso c'è un po più di ottimismo incrociando le dita riprendere un po i nostri discorsi lasciati in sostanza e allora ho detto come perché non approfittare dell'estate del fatto che si possa viaggiare insomma abbiamo avremo tutte e due il pass vaccinale quindi possiamo muoverci eventualmente facciamo anche un tampone in più però io mi sono mai sono vaccinato ma infatti io ti ho portato guarda quattro alternative così quattro fogliettini dove in ogni fogliettino c'è scritto una destinazione per le vacanze tu pesca senza dire uno solo mi dici eh sì a meno che non mi vuoi portare in vacanza quattro volte però cominciamo dalla prima leggi cosa c'è scritto dimmi se ti può andar bene senza dirlo ma guarda questo mi entusiasma meglio dei navigli allora sì questo in questo caso sarei disposto diciamo rinunciare ai miei principi e le mie abitudini allora prossima puntata diremo qual è la destinazione vedremo se effettivamente io accetterò perché perdonami poi l'ultima parola è sempre delle donne va beh ma questo è fuori discussione siamo d'accordo molto d'accordo va bene buona idea posso tenermelo certo assolutamente come pegno bene poi ogni tanto me lo guardo questi vediamo poi magari questi ci andiamo altre volte in vacanza non so cosa ha pescato il direttore ma ve lo faremo sapere grazie vittorio grazie a tutti voi grazie